Buonasera, bentrovati. Ve lo dico subito, ci sono delle novità molto importanti per quel che riguarda le regole per cercare di contrastare i contagi da Covid-19. Dopo giorni di numeri non positivi che abbiamo raccontato tutta la settimana, il Governo ha deciso di correre ai ripari e proprio poco fa ha deciso di chiudere tutti i locali da ballo, le discoteche e assimilati, locali assimilati, da domani fino al 7 settembre. Non solo, ha deciso anche di imporre la mascherina negli orari dalle 18 alle 6, cioè i giorni, gli orari, i momenti in cui l'assembramento è maggiore. È stato istituito oggi, è stato convocato oggi pomeriggio una riunione con i Ministri della Salute, delle Regioni e dello Sviluppo Economico che si sono collegati con i Presidenti delle varie Regioni. Fino a che il Ministro della Salute ha firmato un'ordinanza, il Ministro Speranza, eccola qua, non so se riuscite a vederla, questa ordinanza parla molto chiaro, è più specifica rispetto a quel decreto del Consiglio dei Ministri che era stato diramato il 7 agosto, che per la precisione non prevedeva la riapertura delle discoteche, però in qualche modo lasciava libertà alle singole Regioni di operarlo. Bene, questa ordinanza invece è stata scritta in maniera più diretta, più assertiva, è fatto obbligo, si scrive, dalle 18 alle 6 sull'intero territorio nazionale l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, nei luoghi aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici, piazze, slarghi, vie, eccetera, o per le sue caratteristiche ci possa essere un assembramento di persone, quindi significa fuori da tutti i locali, pub, bar, ristoranti, non solo, vengono sospese tutte le attività che abbiano luogo nelle sale da ballo e punto fondamentale di questa ordinanza è che non sono ammesse d'eroghe con ordinanze regionali, questo significa che le Regioni appunto non possono fare come fino a questo momento, laddove soltanto la Calabria e la Basilicata avevano chiuso i locali da ballo. Naturalmente questo avrà delle conseguenze economiche significative, c'è già la protesta di cui vi daremo conto dei gestori dei locali da ballo e vi daremo conto anche di quanto è l'introito e l'impatto economico di questo provvedimento, poi naturalmente anche i numeri del contagio che oggi sono leggermente positivi rispetto a ieri, sono in calo i contagi ma dipende anche dal numero di tamponi che sono in calo invece anche questi, quindi come al solito è la proporzione che contano, non i numeri assoluti. In Francia per esempio, di questo vi parleremo nel giornale, oggi è stata una giornata record, sono stati registrati oltre 3.000 casi nuovi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, ma è anche vero che in Francia stanno facendo dei controlli a tappeto, 600.000 tamponi in una settimana, calcolate che noi mediamente ne facciamo tra i 30.000 e i 40.000 al giorno. Poi torneremo sul giallo di Caronia perché c'è una nuova pista sulla quale si sta indagando, probabilmente Viviana Parisi non si era rampicata sul traliccio sotto il quale poi ha trovato la morte per suicidarsi, ma perché forse scappava dall'aggressione di due cani, di due grossi cani. Poi dall'estero una giornata storica è stata definita quella in Bielorussia, perché lo vedrete, la piazza di Minsk è stata completamente riempita da manifestanti che stanno protestando, è ancora in corso la manifestazione contro il presidente Lukashenka, il quale ha chiesto e ottenuto, vedremo in che termini e fino a che punto, il sostegno del presidente russo Putin. Per questo ed altro naturalmente vi aspetto tra poco, intanto tra 30 secondi per i titoli. Dal vertice tra governo e regioni nuova stretta sulle misure anti-covid e le discoteche resteranno chiuse in tutto il paese senza alcuna possibilità di deroga, previsti i contributi economici per gli operatori. Torna poi l'obbligo di mascherina anche all'aperto, nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento, piazze affollate, terrazze di bar, ristoranti, dalle 18 alle 6 del mattino. Dopo 5 giorni il numero di nuovi contagi d'Italia torna a scendere, sono 479 contro i 629 di ieri, una flessione che risente però, va detto, del minor numero di tamponi effettuati. Massima attenzione, continua a esserci per chi rientra dai paesi a rischio, ma gli aeroporti attrezzati per i test rapidi sono soltanto 5. Tutti gli altri casi resta l'isolamento fiduciario e l'obbligo di tampone entro 72 ore. In Europa preoccupa la situazione della Francia, che registra un boom di nuovi contagi, sono oltre 3.000 nelle ultime 24 ore, un numero che riporta ai livelli di tre mesi fa, prima della fine del lockdown. Il governo di Parigi corre a ripare, studia nuovi protocolli per turismo e posti di lavoro, dove probabilmente tornerà all'obbligo della mascherina negli spazi comuni. In Bielorussia la protesta contro Lukashenka non si ferma. Con l'imponente marcia della libertà, l'opposizione scende in piazza per l'ottavo giorno di seguito, dalle contestate elezioni del 9 agosto. Ma il dittatore non cede. Arringando la folla, i suoi sostenitori ribadisce il no a un nuovo voto ed evoca l'intervento dell'alleato russo. Putin avverte pronti all'aiuto militare. Il giallo della DJ morta e del piccolo Joelle prende consistenza anche l'ipotesi di un'aggressione di cani, nata per le ferite riscontrate sulle gambe della donna. Continuano intanto gli appelli degli inquirenti e i possibili testimoni. Quattro turisti che avrebbero visto madre e figlio attraversare il guardrail sull'autostrada dopo aver chiamato il 112, però sono spariti. Spaventoso incidente al Gran Premio d'Austria di MotoGP a causa di uno scontro. Le moto di due piloti volano attraversando la pista nel tratto più veloce e una sfiora, letteralmente, Valentino Rossi. È stato il rischio più grande della mia carriera, commenta a fine gara il dottore ancora scosso. In Formula 1 in Spagna si conferma il dominio di Hamilton. Male le Ferrari, fuori Leclerc, solo settimo Vettel. Buonasera, ben trovati. Allora, i numeri non positivi dell'ultima settimana hanno indotto il governo a correre ai ripari. Diciamo noi anche forse passata la festa di Ferragosto. Fatto sta che dalla riunione convocata d'urgenza oggi dei ministri della salute, dello sviluppo economico e delle regioni, in collegamento con i presidenti di tutte le regioni, è stata emanata un'ordinanza dal ministro della salute, Speranza, nella quale ci sono delle prescrizioni nuove, molto più rigide, soprattutto per cercare di contenere il contagio in quelli che sono e si è visto nelle ultime settimane i luoghi di maggior contagio, cioè gli assembramenti, in particolare nei locali da ballo, vista anche l'età che si è nettamente abbassata dei contagiati, mentre prima era sopra i 40 anni, adesso l'età media di contagio è scesa sotto i 40 anni e soprattutto c'è un aumento esponenziale dei contagi tra i ragazzi, quindi tra i 20 e i 40 anni. Discoteche e locali da ballo chiusi, senza eccezioni, da domani, è obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 di mattina anche negli spazi pubblici all'aperto, se c'è il rischio di assembramenti. Misure per tutto il territorio nazionale, senza la possibilità di deroga da parte delle regioni, in vigore almeno fino al 7 settembre. E' un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività costrette allo stop, che dovrebbe trovare posto nel decreto agosto, con un emendamento. E' l'esito del vertice di questo pomeriggio, tra governo e regioni, in teleconferenza, con i ministri per gli affari regionali Francesco Boccia, della salute Roberto Speranza, per lo sviluppo economico Stefano Patuonelli e i presidenti di regione. Una stretta annunciata, sull'onda della ripresa dei contagi, delle istantanee di un'estate gomito a gomito sulle piste da ballo, nonostante il Covid-19, e sulla scorta del parere del Comitato Tecnico Scientifico, del timore di un nuovo lockdown all'orizzonte. L'ordinanza del Ministero della Salute impone di fatto a quei presidenti di regione, che avevano derogato alle disposizioni dell'esecutivo, consentendo l'apertura delle discoteche, di allinearsi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 7 agosto. L'ultimo capitolo della serrata dialettica tra governo e regioni, che ha scandito tutta l'emergenza coronavirus. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza, spiega Speranza. L'esecutivo promette sostegno agli esercenti dei locali da ballo, che lamentano un danno di fatturato di 4 miliardi di euro, chiedono la Cassa Integrazione per i dipendenti, l'IVA agevolata, il 4%, come misura compensativa. E Patonelli assicura, il danno atteso per le discoteche è grosso, ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo, faremo il possibile per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, già con il decreto agosto. L'opposizione è critica. Comprensibile la decisione di chiudere le discoteche, incalza la capogruppo alla Camera di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, ma gli aiuti per i gestori questa volta dovranno essere concreti e immediati, non possono rimetterci ancora una volta gli imprenditori. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è duro. Questo governo è incapace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli italiani, e se la prende con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire, è una follia. Allora, naturalmente, ognuno ragiona a prodomo sua, o per scopi elettorali, o per scopi di portafoglio. È del tutto evidente che un provvedimento del genere danneggerà, è inevitabile, tutto quel comparto del divertimento che racchiude locali da balo, discoteche, ma insomma, dall'altra parte della bilancia c'è il controllo e il bene pubblico, il controllo della salute. Questo però, naturalmente, è un compromesso, sono decisioni complesse, e dicevo appunto, ognuno ragiona a prodomo sua, perché è evidente che i rappresentanti e soprattutto i gestori delle discoteche hanno da subito protestato per questa nuova ordinanza del Ministro della Salute. Proprio poco fa, si è saputo che il direttivo nazionale del SILBA, che è il sindacato dei locali da ballo italiani, proprio a seguito della decisione del Governo, si riunirà in un direttivo per discutere dell'ipotesi di un ricorso d'urgenza al TAR per il ripristino delle modalità di apertura dei locali. Peraltro, come si diceva anche nel servizio che avete sentito poco fa di Stefano Ferrante, già il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto non prevedeva la riapertura, semplicemente delegava alle regioni la possibilità in sicurezza di riaprire le discoteche e lo ricorderete sia la Calabria che la Basilicata hanno chiuso i locali proprio a seguito di casi di contagio nel loro territorio. Ma vediamo a quanto ammonta il giro d'affari rispetto ai locali da ballo. Il sindacato dei locali da ballo dell'Emilia-Romagna ha già annunciato un ricorso al TAR. Noi non ci stiamo ad essere la vittima sacrificale, dice il Presidente Gian Nindino. Già, perché se il settore non se la passava bene già in era pre-Covid, l'ordinanza di oggi del Ministro Speranza rischia di dare l'ammazzata definitiva al comparto dei cosiddetti locali da ballo comunemente chiamati discoteche. Per questo il sindacato nazionale dei gestori SILB di fronte allo stop imposto per l'aumentare oggettivo dei casi di Covid e contratti sulla pista dai giovani un po' ovunque dalla Sardegna alla Versilia punta a chiedere subito compensazioni come il taglio dell'IVA al 4% e la possibilità di chiedere la cassa integrazione per i lavoratori. Il sindacato non ha ancora calcoli precisi su danni e perdite economiche ma parla di rischio per il fatturato potenziale di un intero anno di lavoro ossia 4 miliardi di euro senza contare che in assenza di una data per le riaperture non si bloccano solo barman, DJ e buttafuori ma anche cantanti, musicisti e l'indotto del cibo intorno ai locali da ballo. Settore che come abbiamo detto già da anni registrava un'emorragia di locali in una delle ultime inchieste più accurate il quotidiano La Repubblica stimava 4 anni fa che in Italia esistessero 2.500 discoteche contro le 5.000 del 2005. A sottrarre pubblico il boom della musica dal vivo che negli ultimi tre anni ha registrato una crescita di oltre il 10% ma anche disco pub stabilimenti balneari aperti tutta la notte live club circoli eventi singoli senza contare che qualche addetto del settore si spinge ad ipotizzare un aumento dell'abusivismo rave parti illegali feste non controllate nelle ville sulle spiagge o in fabbriche abbandonate naturalmente tutti questi provvedimenti sono nati a fronte di numeri che continuano ad aumentare nelle ultime settimane oggi tra poco sentirete che c'è stato un lieve calo rispetto a ieri ma sono anche nettamente calati i tamponi quello che preoccupa è che l'aumento non è lineare ma esponenziale forse ricorderete sapete la famosa leggenda dell'imperatore persiano che appunto per ricompensare chi aveva inventato il gioco degli scacchi chiede una ricompensa e diciamo il contadino che aveva inventato gli scacchi gli chiede di raddoppiare per ogni casella della scacchiera il grano il chicco di riso iniziale questo spiega in maniera molto semplice molto evidente che cosa significa un aumento esponenziale un raddoppio continuo quindi 1 2 4 8 che porta cifre preoccupanti e dunque anche se i dati di oggi sono sentirete positivi è la curva e la crescita esponenziale che preoccupa una piccola tregua dopo 5 giorni di contagi in crescita una diminuzione dei positivi al covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore che però risente ancora una volta dell'effetto domenicale meno tamponi e quindi meno casi scoperti il trend è negativo della pandemia di coronavirus nel nostro paese oggi si arresta 479 nuovi casi ieri erano stati 629 mentre rimane stabile il numero dei decessi 4 lo stesso numero di vittime di ieri le regioni con più contagi sono Veneto Lazio Lombardia con le prime due che risentono soprattutto dei casi dei vacanzieri di ritorno dei test effettuati sui passeggeri al rientro delle vacanze in località considerate a rischio tra i positivi preoccupa anche la vicenda di una bambina di Padova di 5 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della città prima di vedere gli effetti dell'ordinanza firmata dal ministro speranza è importante osservare che la diminuzione dei casi registrata oggi va di pari passo con un altro calo quello dei tamponi effettuati questi sono le cifre dei test molecolari degli ultimi 4 giorni ieri nel ferragosto che ha fatto registrare numeri che ci hanno riportato a maggio per casi scoperti erano stati oltre 53 mila oggi sono 36 mila e 815 mila in meno presumibilmente torneranno a crescere domani quando saranno attivati più punti e potranno essere sottoposte a tampone tutte le persone in arrivo da Croazia Grecia Spagna Malta per ora solo in pochi aeroporti sono stati predisposti box come questi Roma-Fiumicino a partire da oggi poi Venezia Verona-Pescara Perugia questi al momento sono gli unici scali in cui ci sono attrezzature per rilevare eventuali positività grazie ai test rapidi per le altre regioni Lombardia inclusa bisognerà contattare le agenzie di tutela della salute di riferimento non senza difficoltà lamenta chi ha provato a chiamare i numeri indicati e fare il test entro 48 72 ore hanno effettuato tutti il tampone saranno controllati quotidianamente i passeggeri della MSC Grandiosa la prima nave da crociera che è salpata da Genova per un tour del Mediterraneo dopo il blocco deciso per la pandemia di coronavirus distanziamento capienza ridotta del 30% escursioni protette solo alcuni degli accorgimenti per evitare nuovi focolai e conseguenti lockdown con questa finalità rispettare il distanziamento ed evitare ogni tipo di assembramenti era stata firmata l'ordinanza che vietava le tendopoli nelle spiagge a Palermo dove oggi c'è stato l'ennesimo sgombero sulla sabbia di Barcarello nella borgata marinara di Sferracavallo una cronista che riprendeva la scena è stata aggredita da un gruppo di una trentina di persone portata in ospedale è stata dimessa con 5 giorni di prognosi naturalmente c'è anche il problema delle frontiere sapete che per una certa fase nei mesi scorsi sono state chiuse ebbene la Commissione europea oggi ha nuovamente scritto ai partner europei ribadendo che qualsiasi provvedimento nei vari paesi deve essere fatto di concerto non devono essere prese decisioni unilaterali quindi chiusure unilaterali delle frontiere dei vari paesi europei quello che si sta facendo è l'unica cosa possibile ovvero i controlli dai paesi a rischio per chi rientra nel nostro paese oggi però nelle stesse ore c'è stato anche il lancio l'allarme da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché non è soltanto in singoli paesi che sta aumentando il contagio ma a livello globale si è superati 300.000 contagi nelle ultime 24 ore tanto per capirci è il dato più grave negli ultimi sei mesi quindi dall'inizio della pandemia e in particolare gli occhi sono puntati in queste ore in un paese verso un paese europeo che va detto e ribadito fa moltissimi tamponi vi dicevo prima circa 600.000 in una settimana però ha avuto un numero di contagi altissimo ed è la Francia mai così tanti dalla fine del lockdown il numero dei contagiati in Francia supera quota 3.000 3.310 per la precisione ed ora non solo a Parigi ma nel resto di Europa si ha paura che la seconda ondata sia molto più vicina di quanto tutti si aspettassero inoltre sono stati rilevati 17 nuovi focolai portando il numero a livello nazionale a 252 a preoccupare anche il fatto che le aree più critiche sono quelle più densamente popolate con Parigi e Marsilia in cima alla lista nella capitale la prefettura ha vietati raduni con più di 10 persone ed ha anche esteso l'obbligo di indossare le mascherine già in vigore in molte parti ad alcune zone iconiche come le Champs-Élysées e il quartiere del Louvre due spiega il Ministero della Salute i vettori del contagio il primo sono gli assembramenti nei luoghi di ritrovo estivo inclusi i malati di ritorno da località anche fuori dalla Francia che hanno imposto a Parigi di rivedere il sistema degli ingressi e delle quarantene in questo caso ad essere più colpiti sono i giovani che portano il virus in famiglia il secondo sono i luoghi di lavoro per questo anche in vista della piena ripresa delle attività quanto mai necessaria per uscire dalla crisi della prima ondata la Ministra del Lavoro Elisabeth Born ha annunciato che allo studio del Governo c'è un nuovo protocollo di sicurezza per fabbriche e uffici il progetto sarà presentato nell'incontro con i sindacati martedì le misure dovrebbero entrare in vigore a fine agosto tra queste l'obbligo di mascherina nelle zone comuni dove non c'è una corretta ventilazione un aumento del telelavoro soprattutto in quelle aree in cui il virus circola ancora attivamente allo studio anche la creazione di uffici open space e l'installazione di pannelli di plexiglass decisioni chiave da prendere per evitare che la Francia si converta nell'epicentro del ritorno del covid in Europa del quale sta già in qualche modo pagando le conseguenze almeno in uno dei settori più critici quello turistico con oltre 30.000 cittadini britannici rientrati precipitosamente in patria dopo che il governo di Londra ha imposto due settimane di quarantena a chi torna da oltremanica vi devo dare notizia di una catastrofe ambientale che è in corso nell'isola di Mauritius il governo indiano sta inviando proprio in queste ore mezzi e specialisti sull'isola perché si è spezzata in due la nave cargo che battente bandiera Panamense che si era incagliata davanti alle coste dell'isola lo scorso 25 luglio la vedete nelle immagini i serbatoi della nave che peraltro è di proprietà di una società giapponese contenevano 4.000 tonnellate di petrolio parte delle quali si sono riversate in mare più o meno un migliaio di tonnellate compromettendo ovviamente la barriera corallina locale al momento in cui la nave si è spezzata 90 tonnellate erano ancora da aspirare dai serbatoi dunque questo è il rischio appunto di questa catastrofe per il paese che dipende pesantemente dal turismo è chiaro che si tratta di un danno non soltanto ambientale ma anche economico e vi diamo le notizie invece sulle nostre sul nostro territorio nazionale ancora un giallo fitto del quale non si riesce a trovare soluzione quello di Caronia in cui è morta Viviana Parisi adesso c'è una nuova ipotesi il bambino il figlio Gioele ancora non si trova c'è una nuova ipotesi perché probabilmente la donna non si è arrampicata sul traliccio al di sotto del quale ha trovato la morte probabilmente cadendo per un tentativo di suicidio ma probabilmente perché scappava e scappava da un'aggressione giallo di Caronia tredicesimo giorno con la sera sembra perdere consistenza anche l'ultima pista sulla scomparsa del piccolo Gioele il bambino di quattro anni sparito il 3 agosto con la madre Viviana la DJ trovata morta cinque giorni dopo sotto un traliccio in mezzo a queste campagne del messinese setacciate per lungo e largo anche oggi in vano l'ultima ipotesi una possibile aggressione da parte di cani feroci di cui madre e figlio potrebbero essere stati vittime in mezzo a questa boscaglia ad avvalorare questa pista alcune tracce di morsi trovate sul corpo della donna le cui scarpe non erano sporche di terra come se non avesse camminato a lungo dicono gli investigatori e fosse stata aggredita improvvisamente ieri è stato interrogato dagli inquirenti il proprietario di due rottweiler notati in zona nelle ricerche sono impegnati anche i cacciatori di Sicilia il reparto dei carabinieri specializzato nella caccia ai latitanti di mafia droni e telecamere hanno scandagliato la zona piena di tane animali e pozzi ma resta il mistero un giallo nel giallo riguarda poi i testimoni quattro turisti dalla cento settentrionale che avrebbero visto madre e figlio attraversare il guardrail sull'autostrada avrebbero chiamato il 112 e poi sarebbero spariti si tratterebbe di una coppia con due figlie per gli investigatori della procura di patti che hanno aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio e sequestro di persona sono teste chiave il capo della procura ha rivolto più di un appello a presentarsi agli investigatori e non ci si spiega come mai in tutto questo tempo non si siano ancora fatti vivi per immaginare mi devo dare di notizia di un cittadino italiano di 37 anni che è morto a Dresda in Germania dopo essere stato fermato dalla polizia i contorni di questa vicenda non sono ancora chiari secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva dato in escandescence all'interno di un bar durante la notte sarebbe intervenuta la polizia per cercare di sedarlo la polizia l'ha poi condotto nella stazione locale in questo luogo l'uomo è svenuto non si sanno non si conoscono ancora le cause del decesso dell'uomo che è avvenuto dopo il ricovero in ospedale dunque una notizia che ancora dovremo seguire tra notizie dall'estero probabilmente quella più importante oggi è la grande manifestazione che si sta tenendo a Minsk la capitale della Bielorussia dopo giorni di proteste arresti e denunce di maltrattamenti e torture da parte degli uomini dei manifestanti che sono poi stati successivamente liberati oggi davvero vedrete le immagini sono impressionanti una marea di persone scese in piazza per protestare contro il presidente Lukashenko e soprattutto per protestare contro il risultato elettorale che lo volebbe rieletto con l'80% dei consensi manifestazione storica quella di Minsk oggi oltre 100.000 persone in un paese la Bielorussia non esattamente abituato alla democrazia e alla protesta contro chi governa ininterrottamente da 26 anni come il presidente Lukashenko 100.000 persone contro le poche migliaia radunate in mattinata dal padre padrone della Bielorussia a cui ha chiesto di difendere l'indipendenza del paese sotto attacco di paesi stranieri su tutti secondo Lukashenko Polonia e Lituania e comunque le elezioni che lo hanno riconfermato non saranno annullate e quindi scema così l'ipotesi di un ritorno alle urne per smentire quell'80% di preferenze che Lukashenko avrebbe ottenuto sette giorni fa c'è anche la Nato negli istrali presidenziali accusata di aver mosso truppe sul confine occidentale nelle ultime ore notizia subito smentita dall'alleanza atlantica che dice un comunicato ha sì truppe anche su quel fronte ma da non considerare come un nemico animato da chissà quali intenzioni comunque sia la crisi è in continuo a evolversi le due telefonate in 24 ore tra Lukashenko e Vladimir Putin hanno ottenuto la presa di posizione del cremelino per adesso scudo contro ogni evenienza Putin ribadendo vicinanza non disinteressata al presidente bielorusso ha dichiarato che se servisse Mosca è pronta ad appoggiare anche militarmente il paese satellite come previsto dal trattato di sicurezza collettiva del 1992 che riunisce sei ex repubbliche sovietiche russia bielorussia armenia kazakhistan kirghizistan e tajikistan viene da chiedersi intervento militare contro chi contro famiglie anziani studenti operai intanto piccole crepe sembrano aprirsi intorno a Lukashenko come quella dell'ambasciatore bielorusso in slovacchia che ha apertamente dichiarato di appoggiare la protesta del popolo a patto che rimanga pacifica dice l'ambasciatore il paese è diventato indipendente dopo tanta troppa sofferenza che ora rischia di riapparire e a cui fa riferimento anche Papa Francesco tornato a chiedere l'apertura di un dialogo tra le parti la fine delle violenze e di rispetto della giustizia e del diritto ancora dall'estero è morto Robert Trump che è il fratello minore del presidente degli Stati Uniti aveva 71 anni lo ha comunicato lo stesso presidente ai giornalisti è morto in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno non sono state comunicate le ragioni della sua morte il presidente era andato a trovarlo venerdì scorso prima di volare per il weekend in New Jersey e non ha ovviamente nascosto il suo dolore ha detto non ho perso soltanto un fratello era il mio migliore amico ci mi mancherà e ci rivedremo hanno manifestato il cordoglio anche gli avversari per la corsa presidenziale di Trump Kamala Harris e Joe Biden e adesso veniamo a quello che è accaduto nel gran premio della MotoGP in Austria un pauroso davvero impressionante incidente che poteva trasformarsi in una tragedia che invece è finito bene una moto che vedrete ha sfiorato di pochissimi centimetri sia Valentino Rossi che Maverick Vinales ma non è finita lì perché a posteriori ex post diciamo sia Rossi che Morbidelli hanno lanciato un attacco durissimo nei confronti del loro collega pilota francese un brivido così sulle piste della MotoGP non si viveva dalla drammatica giornata della morte di Simoncelli ottobre 2011 il contatto fra Zarco e Morbidelli innesca una carambola sul filo dei 300 orari con i rottami delle due moto che rischiano di centrare in pieno i piloti che stavano sopraggiungendo ad alta velocità ma è vissuto uno spavento così suona ancora scosso le parole di Valentino Rossi a fine gara e soltanto la buona sorte ha evitato che il Gran Premio d'Austria si tramutasse in tragedia Zarco e Morbidelli sono usciti indenni dall'incidente il pilota italiano ricoverato comunque per accertamenti è categorico il mio rivale è un mezzo assassino non si guida così un episodio di cui si discuterà ancora a lungo che ha rubato la scena alla lotta per la vittoria vittoria che è andata ad Andrea Dovizioso proprio all'indomani dell'annuncio del suo divorzio dalla Ducati a fine stagione un successo che riapre la lotta per il titolo e che cambia le prospettive per il pilota romagnolo secondo con 11 punti da recuperare al leader mondiale Quartararo nulla sembra invece cambiare in Formula 1 dove il dominio di Lewis Hamilton è stato nettissimo nel Gran Premio di Spagna per il britannico quarta vittoria su sei gare 2020 e vantaggio in classifica che è salito a 38 lunghezze sull'olandese della Red Bull Verstappen oggi secondo davanti all'altra Mercedes di Bottas a cambiare rispetto al passato recente è stato soltanto il rendimento dei due piloti Ferrari fuori gara Leclerc per un problema tecnico il suo compagno di colori Vettel ha sfruttato sino in fondo la strategia di un solo cambio gomme le polemiche via radio con il muretto box anche stavolta non sono mancate ma tutti i suoi sforzi hanno portato ad un settimo posto in classifica davvero troppo poco per riportare il sorriso a Maranello ci fermiamo a qualche istante poi torniamo dopo la pubblicità per tutti gli aggiornamenti ecco ci stavo controllando non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi vi ringrazio per l'attenzione vi lascio a seguito la programmazione sulla 7 vi auguro buona serata grazie